ciao buongiorno a tutti oggi impariamo a fare delle decorazioni per i dolcetti a forma di cuore come questa sono molto semplici e ci servono solamente uno stuzzicadenti per ogni decorazione un rettangolino di carta colorata o decorata dire con anche di recupero di circa 8 per 4 centimetri le forbici la pinzatrice e del biadesivo o della colla allora ci basta prendere il nostro rettangolino piegarlo a metà in questo senso e poi andare a arrotondare gli angoli da questa parte non ha importanza che siano uguali identici ora apriamo il nostro rettangolo e iniziamo a piegare a fisarmonica in questo modo ora lo pieghiamo a metà la fisarmonica così fissiamo le parti interne con un pezzettino di biadesivo qui in alto togliamo la pellicola e fissiamo e abbiamo già il nostro cuoricino ora dobbiamo inizare con un punto da questa parte così tagliare il fondo e infilare lo stuzzicadenti ecco qui poi allarghiamo la fisarmonica e abbiamo il nostro cuoricino lo modelliamo bene ed eccolo qua facilissimo ma molto molto carino da infilare nei dolcetti ciao alla prossima ciao 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 ciao